ci vorrebbe un libro però da far vedere ok sì dai solo per farlo vedere no ma così poi lo firma pure bene su questo verde qua eccolo qua no era per mostrare l'oggetto quindi va bene buonasera benvenuti siamo qua per appunto per parlare del nuovo romanzo di antonio manzini devo leggere ma chi è dopo 12 anni di amicizia e tutti i particolari in cronaca frase che ricorda il vecchio linguaggio del giornalismo di un giornalismo d'alti tempi e non a caso perché uno dei protagonisti di questo romanzo è appunto un giornalista definire il genere per me è molto difficile perché parte come un romanzo nero nerissimo noir la seconda parte invece come dire vira completamente proprio come struttura narrativa come format narrativo in una sorta di legal thriller perché è ambientato proprio secondo le caratteristiche classiche del sia del cinema ma che del romanzo in un tribunale con una serie di colpi di scena per arrivare è molto difficile in particolare raccontare questo romanzo perché perché non bisogna svelare nulla ovviamente per non rovinare il piacere della lettura quindi tento di essere più vago il più vago possibile quindi la seconda parte è appunto questo questo dibattimento in tribunale dove noi pensiamo di sapere il colpevole perché un po come agatha christi come ellery queen che amavano prendere ingannare il lettore la prima parte si chiude come se l'assassino fosse un certo tipo la seconda parte si apre con questo presunto assassino in in tribunale e c'è questo dibattimento per capire se lui è davvero colpevole o meno la terza parte invece una riflessione poi eh generale come dire sulla giustizia sulla possibilità di arrivare a una giustizia davvero giusta i protagonisti del romanzo sono tanti ma sostanzialmente due eh che si presentano subito in questa nella prima parte del romanzo in questo eh scontro quasi dialettico uno è un personaggio meraviglioso un grande personaggio Antonio riesce davvero quasi come Gogol a costruire eh questo signore ormai di una certa età che vive come un ragno in eh nei negli archivi del tribunale conosce tutto e la memoria storica di questo tribunale sa dove sono tutti i faldoni li conserva li studia li analizza eh quando uno ha bisogno di qualche cosa lui sa subito dove andare a prendere eh e li conserva finché non arriva la decisione di eh mandarli eh al macero personaggio molto complesso introverso totalmente asociale con eh dei grossi segreti alle spalle insomma non dico tanto di più perché ripeto se no roviniamo eh un personaggio che è appunto una un grigiore straordinario è un personaggio in colore no vive solitario nel ricordo tormentato di un padre che in fondo odia non ha contatti con nessuno ha un ha un ricordo che lo tormenta di una di una donna che non è neanche un amore ma semplicemente un'amica che lo tormenta da quarant'anni ma nello stesso tempo anche una metà oscura molto molto forte l'altro protagonista figura dialettica di questo romanzo invece è un giornalista un giornalista di provincia eh che lavora in un giornale di provincia con tutte le caratteristiche del giornale di provincia anche se ormai sono tutti giornali di provincia che vivono insomma un momento difficile dove sono troppo a crisi del giornalismo e questa roba qua eh mio collega che laggiù non facciamo finta che non ci sia ex collega e mh eh quindi con tutte le caratteristiche del piccolo giornale dove tutti devono fare tutto eh il capo in questo caso una donna abbastanza antipatica lui è un giornalista che era felice di lavorare alle pagine sportive e viene trasferito eh in cronaca deve seguire la cronaca nera e di lì il collegamento con una serie di eh omicidi misteriosi eh omicidi eh che avvengono io però non dico altro perché il rischio è quello di eh sbilanciarsi e dire qualche cosa di più allora prima domanda prima domanda eh perché Antonio poi parleremo del romanzo ma la prima cosa perché sei finito in questa collana superclassica del giallo Mondatori cioè c'è una sti gialli Mondatori eh stavano a casa di mia nonna che lei li leggeva e le guardavo solo le copertine erano molto belle col tondo allora ce ne sono quelli grandi così me ne sono rimasti sei setti poi c'erano quelli piccolini però c'era il tondo con cose che vedevano donne bellissime che con la pistola uomini che amato ero affascinato da questi disegni ehm solo da quelli perché il a me in realtà il giallo non mi piace mi annoia molto ehm quei gialli lì erano molto così erano dei giochini enigmistici a me pochino mi annoiano eh però mi piacevano queste queste piaceva questo attaccamento poi scoprì che si chiamavano gialli proprio per questa copertina di Mondatori allora eh ci dovevo stare pure io in qualche modo cioè l'aperta Andrea Camilleri e chi sono io per non per non andarci e ci sono andato e devo dire che è stata una bella esperienza perché perché non mi hanno detto niente io pensavo si era si è stupito mi ricordo chi dicendo che c'è un Antonio Don Rico diceva che nel del giallo Mondatori c'è un c'è ci sono delle cose che non puoi dire lui diceva no e invece tu le hai dette tutte cioè hai toppato tutti sì sì allora il sesso già pagina tre hai spottanato la prima regola politicamente corretto non lo è per niente il libro anzi no non hanno detto niente a Mondatori ma è cambiata l'aria da qualche tempo evidentemente non so quale sia adesso però è cambiata però mi sono trovato benissimo devo dire abbiamo lavorato molto bene sono stato un po' orgoglioso di essere preso dentro questa collana insomma dai con Colin Dexter ci sto anch'io ma adesso come dire questo è una collana una copertina eccetera eccetera ma è bellissima secondo me in sé è bellissimo beh sì molto bello è un artista italiano molto bravo come si chiama non me lo ricordo ok però c'è scritto nella quarta c'è scritto adesso guardiamo costa anche un sacco di soldi che io ho detto chissà se Matteo Pugliese 2016 molto bella si fa delle cose molto belle però appunto copertina il giallo giallo Mondadori classico eccetera eccetera molto diversa appunto dal format a cui siamo abituati la classica invece copertina blu di Sellerio che appunto da quando c'è Sellerio forse parlare di gialli è sbagliato bisognerebbe dire il blu no perché effettivamente Sellerio ha creato una nouvelle vague del giallo italiano ma cambio di copertina cambio editore e anche tutto sommato forse cambio di format narrativo cioè con questa infatti io trovo difficoltà a definire questo romanzo non è sicuramente un giallo anche se parliamo di omicidi anche se ci sono degli intrighi eccetera eccetera ecco tu come lo definiresti che generi daresti a me viene in mente a questo punto questa cosa noir nerissimo ma non so bene tu come lo definiresti romanzo ok romanzo 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 è composto da una narrazione di una persona che non si sa bene chi sia cioè si capisce solo la fine e di un invece del diario del giornalista che giorno per giorno scrive le sue emozioni le sue sensazioni quello che gli succede incontri dall'unione di questi due racconti si nasce questo libro in realtà la voglia era di scrivere di un giornalista che costretto ob torto collo a dire il più possibile la verità questo vorrebbe la deontologia di un giornalista poi oggi sappiamo che insomma lasciamo stare però deve scrivere quello che accade se non altro giornalista di cronaca deve scrivere quello che accade invece il narratore deve essere verosimile quindi io non non ci giurerei che quello che scrive il narratore sia tutta verità no quello che scrive il giornalista sì dovrebbe essere il del diario no quell'altro non lo so infatti per questo è dedicato a onetti questo libro esatto esatto che questo già prima il primo onetti che la prima diciamo citazione spiazzante ma anche ad auerbach sì come mai ad auerbach e vabbè e poi anche onetti onetti perché la grande scrittore uruguagio che aveva scusami come cazzo ci sono stato lo sono lui e le sue le sue nuvelle sono il narratore non sa quello che non sa fino in fondo quello che sta raccontando la meraviglia di questo scrittore che ti porta in mondi di cui lui ne sa un po lui non sa i finali non ne conosce non sono anche importanti l'importante è provare a narrarti una cosa e prova a partecipare di questa narrazione insieme a me che sono uno scrittore è una scrittura difficilissima ma non come fruizione a farla è una scrittura profondissima per cui gli interrogativi che lui si pone sull'uomo sul sul futuro sul passato sul concetto di giustizia di bellezza sono degli interrogativi posti da uno che non sa neanche se se li sta ponendo giallo metafisico eh sì e allora per questo voluto parte per la passione che per questo scrittore ma io ho voluto dedicare questo libro perché in realtà come dice auerbach a volte più che dalla più che dalla trama dobbiamo capire dal personaggio la storia è il personaggio che narra la storia in questo caso proprio il caso proprio del personaggio che si narrano due personaggi si stanno narrando in due maniere diverse una storia appunto il giornalista in maniera vera è un narratore in maniera verosimile si dà il caso che uno sia un indagatore l'altro un indagato ma siamo sicuri che il racconto in terza persona sia vero o sia verosimile sia tutta verità quello che ha scritto o in parte no il dubbio c'è perché io non lo so ecco ma citavi auerbach perché auerbach proprio per questo motivo sul per il personaggio perché è importante ok non tanto per i suoi studi su sul sommo ma su sul personaggio e quanto un personaggio vada guardato parlo da lettore una diversa accezione una diversa ottica io da lettore sono abituato spesso mi metto a leggere un libro e so che adesso il narratore mi racconterà questo personaggio io un po comodamente mi siedo e assisto a questa scena a questo personaggio che è quello che farà eccetera eccetera quello che dice auerbach invece occhio non è sempre così da lettore cerca di capire entra in questo personaggio cerca di capire se è questo personaggio è davvero quello che il narratore ti sta raccontando perché lo scollamento tra narratore e personaggio è una delle cose più affascinanti che ci sia se al narratore sfugge il personaggio siamo nel mistero della letteratura manzoni farò un esempio più che conosciamo tutti è chiaro che a manzoni gli sono sfuggite luci e la madre sono sfuggite non ma perché le odia le odia ferocemente per manzoni luci e la madre sono due idiote e renzo è giustamente il marito di quella idiota lì perché un idiota e questi personaggi sono sfuggiti dalla penna gli sono andati avanti è chiaro che lui è innamorato del di don rodrigo perché lui è don rodrigo lui è innominato anzi quello che nessuno è chiaro che lui gli piace la monaca di monza non c'è bisogno di che stiamo parlando di renzo e lucia lui sono i personaggi che lui ha messo quello che a lui gli scappa però veramente non dalla penna ma di cui ti racconta una parte è proprio l'innominato guarda caso lo chiama l'innominato che è quello che lui ama di più e quello è il personaggio da guardare per capire promessi sposi non renzo e lucia quello lì perché lì sta il segreto del narratore che non ce lo vuole rivelare ma sta là dentro se tu lo leggi attentamente e lo trovi lo trovi è come dire se leggi la recherche è chiaro che è il narratore quello che tu devi capire chi è ma ci metti sette libri per capirlo e forse neanche l'hai capito no non è albertine è il narratore quello che ci interessa e tu alla fine dici oddio santo come faccio a capire un personaggio che dura da vent'anni sono vent'anni e questo dura poi faccio a capirlo da lettore forse la sesta lettura comincio a capire chi chi è sto questo signore che mi sta raccontando i suoi ricordi e la sua vita ecco ecco perché mi piace perché 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 poi dalla struttura teatrale quella da dove provengo io il personaggio è superiore allo scrittore non c'è niente da fare il personaggio che viene interpretato ogni sera quando stiamo parlando di scrittori di personaggi amleto è superiore a shakespeare certe cose shakespeare io sono convinto le ha scritte ma non non le ha capite fino in fondo e le hanno spiegate dopo le hanno spiegate dopo in questo senso pirandello ci insegna di persona lo dice lui te lo dice lui c'è un personaggio che rifiuta di essere un personaggio a me non mi frega niente di questa rappresentazione e se ne va lui si sente è chiaro che lo scrittore l'autore è inferiore a quello che scrive ai personaggi che scrive quando è un grande autore amleto possiamo parlare del re lear possiamo possiamo parlare di di hotello di qualsiasi personaggio di shakespeare sono personaggi più forti dello scrittore tanto è vero che ancora oggi vengono rappresentati vuol dire che ognuno ci trova sempre qualcosa di più fino a qualche anno fa c'era ancora gli atriba sulla traduzione di to be or not to be che tutti traducono essere o non essere garbo diceva no il to be in inglese include anche un senso di azione mentre l'essere o non essere statico in italiano infatti lui traduce agire o non agire cioè il dramma di ableto non è soltanto l'essere ma anche l'essere in movimento ma che fare giusto quindi a distanza di 600 stiamo ancora lì a capire che cacchio ha scritto sto signore è ovvio che i personaggi gli sono sfuggiti dalla sono diventati più grandi di lui lui l'ha solo seguiti in più al teatro c'è questa cosa che non c'è purtroppo invece farebbe bene alla letteratura c'è la messa in scena per cui ci sono degli attori dice si attore uomo barra donna sei attrice che anche se c'ha 60 anni ne ha 8 9 che ha delle intuizioni pazzesche e neanche lei lui sa da dove gli arrivano perché sei un animale gli arrivano in quanto animale proprio di palcoscenico e gli attori ha spesso e volentieri ti dicono cose che neanche loro sanno perché te l'hanno ditte ma hanno ragione loro l'hanno lette le hanno vissute e te le interpretano in quel modo lì e tu capisci o cacchio era quella era molto più avanti di quanto pensassi io se questo ci è arrivato da solo fino alla giù bisognerebbe far leggere solo che la noia spaventosa i libri a un gruppo di attori tu sei lì che ascoltare gli attori ti dicono delle cose che tu non ti aspetti le messe in scena del teatro sono queste amleto quello che ci aggiunge a noi è l'ultimo dei testi messi in scena 40 volte no ma la prima volta chissà com'era magari polonio non moriva o felia non si succede che ne so come andavano le cose però gli attori ti apportano perché spesso il personaggio ti deve un po scappare dalla tenda se sei un personaggio forte totalmente d'accordo invece di sento invece aperta parentesi sull'innominato perché secondo me manzoni amava più don rodrigo sì perché l'innominato alla fine si converte diventa un figo assolutamente ma 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 don rodrigo è quello che rimane uguale a se stesso soffocato da questo passato da questa idea di essere comunque un seduttore un cavaliere le regole dell'onore perché poi da manzoni io appena lo guardo l'ho riletto l'anno scorso riletto in realtà forse anche solo letto perché a scuola non si leggeva un romanzo straordinario difficilissimo da leggere che ti richiede una concentrazione pazzesca ma poi ironico ironico ma c'è tutto c'è tutto c'è tutto io ho riso sì ma c'è tutto c'è tutto c'è tutto c'è c'è la teoria economica c'è tutto c'è tutto un romanzo veramente straordinario a volte bisogna leggere due pagine poi spegne chiudere perché ti riempie però io sono più per don rodrigo perché ho scoperto questa cosa rileggendo i sposi che manzoni da giovane aveva questo era uno stronzissimo e i genitori avevano dovuto pagare una forte somma perché lui aveva fatto dei casini con una ragazza aveva setotto con del genere e avevano dovuto pagare perché lei ritirasse la denuncia quindi manzoni era don rodrigo però forse potrebbe essere don rodrigo che è anche l'innominato insieme sì tutti insieme sicuramente forse il nominato del padre di manzoni sì sì esatto sicuramente poi lui no rense e lucia erano due idiotiche due idiotiche assolutamente hanno delle cose c'è una che parte sul lago addio monti sorgente e vaffanculo cioè non è che stai andando in america dio santo benedetto fai che fa due c'è un chilometro e otto fai dai per tornare invece poi quando ci vai tutta sta bellezza sto lago è un lago normale con due cose ma quella è casa sua ma che c'ha 16 anni invece per tornare al romanzo appunto a questo romanzo di antonio a quello tu accennavi accenna tu parlando di hauerbach la giustizia eccetera eccetera ecco uno dei tuoi temi ricorrenti e che qua ritorna in scena ma che c'è presente in schiavone c'è presente nei tuoi romanzi nei quei romanzi dove schiavone non c'è eccetera eccetera è il tema della giustizia e questo è un romanzo una grande riflessione sulla giustizia alla durma cioè qual è la vera giustizia e la giustizia la giustizia che amministrano gli uomini domanda risposta assolutamente no anche perché il padre il padre di del protagonista di questo esatto di questo archivista dicevo no molto molto grigio cose del genere è stato un famoso giudice che ne ha combinati di tutti i colori perché era colluso anche con la massoneria assolveva i peggiori delinquenti e condannava invece i poveracci quindi la domanda è sicuramente la giustizia che gli uomini amministrano che i tribunali amministrano non è sicuramente giusta ma è giusta anche la giustizia di quelli che a un certo punto cercano indetta cercano di farsi giustizia da sola eccetera eccetera cioè questa è una grande domanda il protagonista questo kappai non dico l'altro ma lo capirete leggendolo incanna queste due anime questo odio sfrenato feroce nei confronti di questo padre che va ben oltre il complesso edipico di questo magistrato duro anche veramente antipatico è assolutamente ingiusto che ha segnato la sua vita di quando lui era adolescente invece era pieno di ideali e il desiderio dentro che alberga in lui dopo aver visto così tante ingiustizie compiersi nelle aule dei tribunali di costruirsi una giustizia lui alternativa insomma è il tema della giustizia e questo tema della giustizia ritorna ritorna continuamente nei tuoi romanzi no da schiavone in poi perché anche schiavone comunque è un poliziotto molto particolare no cioè le regole non esistono eccetera eccetera ecco perché ritorni così ossessivamente su questo tema di un re mattiano manzoniano anche se vogliamo sì perché anche lui ci si interroga in realtà la giustizia è un concetto umano non esiste in natura il concetto giustizia non esiste non esistono i concetti ma tantomeno esiste concetto della giustizia l'esempio è sempre quello che faccio tu prendi tre cani dai un biscotto solo a uno di loro due uno se lo mangia gli altri due non lo mangiano e se ne vanno fa la stessa cosa con i bambini e vedi che succede in natura non c'è non c'è un concetto di giustizia nessun nessuna gazzella dice al leone ti sei mangiato il più piccolo sei proprio uno stronzo sei ingiusto è ingiusto quello tu almeno mangiatelo più vecchio tu prova appunto grazie a dio a fare un male a un cucciolo di uomo vedi che succede la cosa che è che la giustizia è un concetto umano quindi attiene alla sfera dell'emotività dell'emozione in uno stesso reato dipende da che parte della barricata stai per avere un concetto di giustizia sei la vittima hai una tua un tuo senso della giustizia se sei carnefice ne hai un altro ora però questo questo deve essere mediato dalla legge che invece non è emozionale ma è asettica oggettiva ed è difficile conciliare l'emotività con qualcosa di asettico di oggettivo di esterno all'emotività è da Atene che ci stiamo provando è una quadratura del cerchio molto difficile secondo me aggiungo poi qua il problema delle procedure che anche quelle sono delle sorte di ingiustizie legali no per cui con dei cavilli dei colpevoli se la cavano ma non è quello quindi la giustizia è un problema non soltanto amministrativo ma anche un problema etico io mi trovo davanti a un fatto se è esterno da me do un giudizio anche in maniera un po' arrogante se vogliamo perché è facile giudicare dall'esterno no da dentro cominciamo a dire ben altro e questo ben altro che è un problema è un problema perché comunque ci deve essere una giustizia giusta diciamo così e amministrata da una legge ma è impossibile difficilissimo è quasi ogni volta che si vedono i processi in televisione anche se andato vent'anni all'assassino del figlio tu vedi la madre e il padre che piangono e dicono non è giusto è uno schifo quell'altro dice cazzo vent'anni speriamo che magari esco un po' prima perché vent'anni sono no è difficile molto difficile per cui in realtà è un problema irrisolvibile una specie di enigma che non ha una risposta non risposta però noi tutti ci troviamo di fronte a questo enigma da quando siamo piccoli tutti i bambini dicono non è giusto la prima cosa che dice non è giusto te vai a scuola non so per quale motivo non hai fatto niente becchi la nota non è giusto e c'ha ragione il bambino a dire non è giusto vedi come è insito nell'essere umano dire non è giusto già da piccolo già da piccolo c'è questo problema e lo affrontiamo ogni giorno noi italiani in particolare per noi italiani a giustizia è stato sempre un enigma un problema molto molto grosso se pensiamo io penso da mani pulite ai nostri magistrati che sono morti sulle autostrade o sparati per strada dalla mafia abbiamo abbiamo mafia andrà anche del camorra che attaccano e hanno attaccato i magistrati anche delle fronde politiche che hanno attaccato i magistrati pur di cavarsela e abbiamo poi avuto dei magistrati che hanno fatto delle cose ignobili hanno incastrato gente che non era da incastrare hanno agito in maniera sbagliata nel momento sbagliato per noi italiani la magistratura e i giudici la giustizia le aule del tribunale sono una presenza costante nella vita sociale tanto che antropologicamente noi tutti stiamo cambiando da questo punto di vista ci sono dei movimenti politici che sono diventati importanti in quanto giustizialisti hanno usato cioè l'assenza di giustizia la difficoltà di amministrare giustizia come cavallo di troia per entrare dentro l'anima delle persone sono durati poco però ci sono ci sono stati ci saranno sempre io non credo che un danese abbia un rapporto così conflittuale con la giustizia come ce l'abbiamo noi italiani noi leggevamo sui giornali dei processi a certe persone come dei come dei risoconti della partita di calcio ce lo ricordiamo tutti ah l'hanno beccato ha visto moglie ha due anni e ora vedrai che quello tutti i grandi intenditori di procedure penale civili quindi è una cosa con la quale noi tutti conviviamo sia sui giornali sia purtroppo a volte anche ti capitano personalmente e è per questo che io sto incazzato per questo ci continua a parlarne perché è impossibile però diciamo che su queste impossibilità in italia ci abbiamo giocato un po troppo diciamo che se una corte tedesca ha l'impossibilità di giudicare noi diciamo che ne abbiamo fatto da un lago ne abbiamo fatto un mare e dentro questo mare ci sguazziamo da troppo tempo per cui abbiamo visto troppi impuniti abbiamo visto abbiamo visto gente punita tornare in auge beccare anche dei soldi al mese abbiamo visto persone candidarsi a delle cariche politiche quando sai che per esempio anche se vuoi fare il bidello deve avere la fedina penale pulita e ci chiediamo sarà giusto sarà giusto che sarà giusto che la prima domanda è sarà giusto che un reato cade in prescrizione questa è la prima domanda che io mi sono fatto da sempre è caduto in prescrizione cioè non vale più ma tu l'hai fatto dice vabbè con la tua coscienza ma la coscienza scusatemi ma è cartigenica per quanto mi riguarda oggettivamente e socialmente parlando un reato è stato commesso un reato amministrativo cioè se hai rubato 80 milioni di euro non cade in prescrizione perché se cade in prescrizione sai che c'è io non pago un cazzo di tasse tanto cado in prescrizione anch'io commetto un reato non vi pago più le tasse ne le devi dare no tanto casca in prescrizione hai fatto un reato casca in prescrizione anche il mio mio no il mio non cade in prescrizione si possono ma si può reato quel dei reati di associazione mafiosa possono cadere in prescrizione cazzo no e cazzo no quando è morto borserino piangevamo tutti no cascano in prescrizione se c'è gente che è legata alla mafia è stato provato che stia in giro e riceva dei regali e a me non va bene io faccio parte della società civile che paga le tasse e viene messa in galera se fa degli errori allora perché c'è gente che aveva a che fare con i corleonesi adesso sta in giro e prende anche delle delle eredità non mi sta bene non è giusto non è giusto infatti dicevo questo è un tuo tema ricorrente per esempio anche uno dei tuoi romanzi forse più belli agli ultimi giorni di qui che mi fette proprio su questo aspetto che tra l'altro ispirato a un fatto di cronaca no poi tu cambi forse i nomi di personaggi si mi ha raccontato una storia del treno esatto un treno cose del genere eccetera eccetera che è proprio il tema di un colpevole di un criminale che ha involontariamente devo dire però commettendo una rapina uccide una persona poi sconta il suo il suo la pena lo sconta secondo le regole poi della giustizia italiana dove ci sono questi sconti di pena buona condotta eccetera eccetera a un certo punto esce ecco per caso incontra la mamma della della vittima e lì nasce un'ossessione e devo dire che la grandezza di questo romanzo è che forse tu alla fine da quello che raccontavi ti hai una tua idea ben chiara di giustizia che o comunque di una imprescrivibilità della pena cioè che la pena non può essere prescritta no cioè a un certo punto le penne gravi i reati gravi non decadono o se decade la nostra memoria ma il reato resta la bellezza di questo romanzo è che invece non c'è una risposta così univoca cioè anche il colpevole che aveva tutto il diritto secondo la giustizia italiana di costruirsi una vita se l'era ricostruita e quindi aveva messo in movimento anche degli altri gli affetti delle persone eccetera eccetera ecco perché a un certo punto deve essere riportato nel passato ecco cioè la bellezza dei tuoi romanzi è che su questo tema assolutamente delicato dove forse è impossibile trovare una soluzione definitiva ecco il tema della giustizia resta aperto perché anche in questo romanzo dove c'è dove si adombra figura così della della giustizia della vendetta della vendetta privata ecco dove istintivamente sei portato a essere partecipe no dice va bene quello che si vuol vendicare cioè poi noi siamo anche figli di vendicatore di tanti vendicatori no dai fumetti al cinema vendicatore la figura più bella no di quello che vendica i torti eccetera eccetera però anche lì poi a un certo punto c'è uno scatto cioè davvero ci si può vendicare in una società democratica forse no non poi non puoi non puoi non puoi lasciare la giustizia al singolo individuo zorro è un'altra cosa donna altra cosa batman batman altra cosa salvini è un'altra cosa questi grandi eroi ma noi siamo diciamo che democrazia in una società democratica no non si potrebbe fare non si dovrebbe fare detto questo se però torno a ripetere se capita a te che tua figlia di 13 anni venga violentata da quattro persone non lo so grazie a dirmi sono invece adesso c'era 31 spero sia lei e violentare dei ragazzi per cui però fino a quando non ha avuto l'età insomma io stavo un po teso tanto che dicevo senti amore se si avvicina un trentenne e ti chiede al bar cosa cosa prendi tu digli una coca cola tu quattro anni e due mesi vedi che si allontana può essere un buon deterrente un altro tema ricorrente dei tuoi romanzi penso schiavone ma non solo è quello della questa quasi ossessione per una figura femminile che determina la tua vita e poi a un certo punto scompare e anche qua schiavone continua a parlare con la sua moglie morta eccetera eccetera gli si avvicinano delle ragazze donne anche affascinanti perché continua anche qua c'è questa storia non c'è anche questo personaggio dicevo questo cappai questo archivista e dominato determinato dal ricordo ossessivo di questa amica di giovinezza che non è neanche una fidanzata non è neanche un amore era semplicemente una un'amicizia forte come si sviluppavano in quegli anni lì negli anni settanta parliamo anche magari anni settanta ecco che a un certo punto viene uccisa ecco e lui questo cambia completamente la sua vita cioè non riesce più a ricostruirsi una vita normale non dico ad avere delle donne ma altre donne ma proprio a non vivere più normalmente ecco perché tu ritorni ossessivamente su questo tema ossessivo della della donna che è indimenticabile non lo so no non lo so bruno non ci avevo proprio pensato allora se ti distendi fanno conti io sei l'analista non so guarda io mi ricordo che ho avuto un parto podalico è la prima volta che non ci ho mai non ci avevo pensato quindi quindi se non ci ho pensato non ti so rispondere è però non è casuale che ritorni continuamente c'è schiavone anche tutto qua è vero è vero schiavone sì vabbè è una cosa che adesso mi mette in crisi profonda non ti so rispondere e non lo so speravo di poter poi imbastire una roba romanticissima past live queste cose qua no 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 invece niente no credo che c'entri in qualche modo la figura materna no viene proprio psicologia da daccatto proprio bellissimo rapporto con mia madre sono eterosessuale non lo so non lo so non ti so rispondere veramente non ci ho proprio pensato forse perché ho proprio paura di perdere questo questa colonna che è la donna che ti sta accanto che allora avendone paura ne scrivo per esorcizzarlo potrebbe essere quello credo che dopo chiaramente la perdita di un figlio la cosa peggiore che ti possa succedere è quello di perdere la tua compagna non dico il compagno non a caso perché invece perdere il compagno è una cosa positiva e sostituire anche assolutamente voglia a te è uno che stava là che coabita e non trova un cazzo in casa più o meno il che ti dimostra che non è casa sua ma scusa dove cazzo stanno io ho visto gente morta per ho visto gente rovinarsi non tanto per il divorzio ma perché poi una volta da soli in una casa ho visto degli uomini perduti ma come Lorenzo Oliver Lorenzo da rabbia nel deserto del gobbi proprio cioè così dice che fai non mi ricordo cioè senti un po' ma i carciofi vanno messi a bagno prima se domande queste sono perché poi questa è la vita perché sono amari forse lo mette con il limone ma perché mai si scoccia la pasta e soprattutto i calzini ma non li compriamo a coppia le grandi domande a quale l'uomo non sa rispondere a quale nessuno attenzione sul calzino non sa rispondere nessuno non è vero che c'è un posto nella lavatrice dove vanno tutti i calzini non assolutamente vero i calzini vivono di vita propria è vero e sono come le coppie spesso divorziano è lì quante calzine hai comprato quest'anno? 18 paia perché ne hai 3? le altre 15 do cazzo stanno non ci sono più e poi un'altra domanda che io questa me la faccio a me scusate lo so io le magliette porto la XL perché nel mio cassetto ci sono 10 magliette L che a me non mi entrano non mi entrano io non l'ho mai comprata e non ho potuto fare questo errore e chiedo scusate queste cazzo di magliette L di chi sono? siamo io e mia moglie fa 2 no perché io sempre XL ho comprato vedi qua c'è scritto L non è possibile e lei che ne so l'avrei presa per sbaglio in piscina cioè io vado rubando le magliette nella eccezione no non lo so di chi sono stando là io poi che faccio? le prendo le metto in un altro armario dove ogni tanto viene mio figlio che invece un po' se le mette un po' però e e poi ritornano dentro al cassetto e io le rimetto lì e tornano nel cassetto tutto questo io lo accetto non lo capisco lo accetto però lo accetto ma soprattutto e questa è una domanda che vorrei porre soltanto al cotem maschile quella camicia bella perché quando ti serve non c'è mai non c'è mai non mi metto quella camicia bella dove cazzo sta? tu la vai a vedere non c'è mai quindi metti un surrogato e la giornata è una schifezza perché questa camicia non andava bene torni a casa è lì era in mezzo ed era lì ma tu ci hai visto ci hai guardato là l'hai visto che non era lì c'è lì e allora c'è c'è una risposta c'è un complotto durissimo è come col findiccio con quello dove la moglie è fintamente impazzisce come si chiama? non me lo ricordo è uguale però è al contrario è rebecco il primo marito lo fanno lo fanno per stancarti perché tu alla fine dici alzi la voce loro sono pronte ti dicono ti fanno un ammazzo così e tu sei fuori finalmente fuori dai coglioni è facilissimo loro sulle piccole cose quelle che ti massacrano è facile massacrare uno su una cosa grossa io ti massacro sulle piccole cose piano piano a goccia cinese ma alla fine finalmente ti levi dai coglioni col senso di colpa però perché anche quello non devi uscire di casa dicendo c'ho ragione io dicendo di casa che merda che sono faccio proprio schifo faccio come mi sono comportato di merda ma le magliette large di chi cazzo era sai ma è poco per montare un caso e loro chi vuole fuori casa tipo io lo sa siamo arrivati a parlare non lo so non lo so ah questo fatto della donna di mamma della donna sì però la donna che dice no veramente la paura è quella delle magliette magliette legate alla donna anche quello dà un senso alla vita certo che bello oggi ho trovato tre large invece che sei e tre calzini e tre calzini e tre calzini ecco senti un'altra cosa di questo romanzo è un'ambiente ah beh domanda domanda chiaramente è Bologna è Bologna perché non la nomini mai cioè non è mai nominata Bologna a parte in un punto dove dici a distanza tra Bologna e Milano mi sembra è un'ora e mezza perché perché si capisce poi è una città di provincia italiana provincia è una grande città italiana non è la capitale non è Milano non è Torino lo capisci piano piano come se tu come se come mi piace che il lettore capisca dove siamo man mano che comincia ad entrare anche dentro al personaggio insieme capisci capisci comincia a vederti cappai questo archivista e comincia anche a vedere la città dove vive la città certo adesso ho visto delle strade che possono essere la città del centro Italia non si capisce possono essere qualsiasi poi piano piano invece diventa sempre più Bologna difatti la cosa curiosa è che tu anche se non sei mai stato a Bologna cioè non tu ma il tu impersonale del genere tu tu lettore a un certo punto capisci che è Bologna poi vabbè ci sono degli elementi anche storici ben precisi e che vabbè ok li identifichi ma a un certo punto capisci che è Bologna senza nominarla va bene sì quando quando cioè nell'ottocento quando un signore si metteva a scrivere un romanzo aveva bisogno di dire al lettore di dare al lettore un miliardo di informazioni anche di più perché che ne so un parigino nel 1870 non è detto che sapesse cose un deserto anzi probabilmente non lo sapeva non sapeva Roma non c'era mai stato e quindi spesso tu leggi i romanzi ci sono delle descrizioni molto 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 larghe molto abbracciate e abbraccianti interrompo pensa perché siamo in casa ma pensa Salgari raccontato un mondo che non c'è peraltro sì ma ci ha raccontato l'America il West la Malesia tutto c'è gente che non sapeva neanche che non arriva neanche a Moncavieri ecco o Pinerolo o Pinerolo no è certo e quindi usava un sacco di parole di descrizioni tutto questo oggi è ridicolo perché anche se nessuno è stato mai in un deserto noi lo sappiamo come è un deserto abbiamo sentito o visto o ce l'hanno raccontato nessuno di noi è stato in Malesia ma la Malesia ce l'hanno raccontata le parole sono non puoi più usare le parole allo stesso modo allo stesso modo è proprio questo fatto di avere sempre tutto molto chiaro Torino non ci sono mai stato ma è come se ci fossi andato ho giocato al contrario non ti dico dove siamo veditelo tu piano piano dove siamo come una luce che si accende lentamente su un pacco scenico per questo piano piano ti capisci che è Bologna anche se magari c'è i suoni porti ce l'hai potuta confondere un momento con Torino ma un momento solo poi dice no non è possibile non è fatta così Torino non c'ha queste strade che si inerpicano Torino è molto accampamento romano e mi piaceva ritornare un po' a quel mistero del luogo dove si svolge l'azione come quando io nell'ottocento leggendo un libro di cui non so veramente niente di Torino appunto lo capisco piano piano lo capisco piano piano e perché anche poi il fatto è la metafora del giallo che tu in teoria piano piano dovresti arrivare a capire chi è chi no che l'assassino è Franco Interlenghi lo si capisce alla fine però fino a quel momento non lo sapevi capito sbagliato però lui appunto scherza ma poi in realtà la seconda parte del romanzo è veramente una costruzione molto abile secondo i dettami del giallo classico sì proprio io citavo Ellery Queen che non a caso poi c'è la posta di Ellery Queen in fondo tutti i gialli ti ricordi la posta di Ellery Queen come no come Simo di questa narrativa dove lui ti prende ti prende in giro ti fa credere una cosa e poi a poco a poco ti fa capire che la realtà invece che la verità è tutt'altra e gli elementi per capire questa verità te li aveva già disseminati nel corso nel corso della narrazione tu fai così quindi lì torni veramente alla struttura classica che poi è la struttura classica del romanzo d'amore non è che il giallo lì si è incistato sul romanzo d'amore c'è sempre una donna che ha dei contendenti e tu ogni volta che pensi di aver capito qual è quello che sposerà sicuro hai sbagliato era quell'altro diciamo allora è questo no non è manco questo orca miseria chi sarà era il primo via dalla pazza folla è scritto così tu sei sicuro che è oak no non è oak allora sarà forse quello che ha i terreni si mi sa che è lui perché è ricco no è il sergente ma tu guarda che esce perché è bellissimo ma non è il sergente che addirittura vuole il divorzio perché viene ucciso ma come era il primo arca però l'avevo indovinato che era il primo ma quando l'hai detto tu non poteva essere il primo è bellissimo e su quello sei incistato un romanzo proprio giallo sulle cosiddette false piste Bologna Bologna questa città appunto che abbiamo capito che è Bologna ma l'aveste capito comunque ma ci sono poi anche degli elementi storici uno è quello della strage di Bologna della bomba alla stazione ma soprattutto per chi ha una certa età come me come me si riconosce l'atmosfera degli anni 70 l'atmosfera politica gli ideali politici l'autonomia eccetera eccetera che in Bologna ebbero diciamo la capitale ideale gli indiani metropolitani ti ricordi tutte queste cose eccetera eccetera ecco e nonostante il romanzo sia ambientato nella modernità c'è un ritorno a questi anni 70 perché in questi anni 70 questa appunto famosa donna che determina la vita era viva era una ragazzina i due erano amici e anzi vivevano insieme le emozioni le lotte gli ideali di quella sinistra extra parlamentare degli anni 70 ecco perché hai voluto tornare lì e descrivi diciamo è vero che tu non ami molto le descrizioni del tempo e dello spazio e cose del genere tu sei più concentrato sulla trama sui personaggi e cose del genere però qui si capisce che tu vuoi raccontare gli anni 70 quel clima quella temperie culturale quel climate ecco come mai perché forse comincia a invecchiare Bologna è la città che ha pagato molto cara la somma finale molto cara il prezzo di quegli anni lì il prezzo degli anni 70 a Bologna sono stati molto duri molto violenti e hanno chiuso in maniera orribile nella stazione perché era un bel esempio di giustizia non applicata io tanti anni fa anche se ero piccolo avevo visto una situazione simile a quella ed è stata una delle dei reati mai pagati perché il reo confesso non confesso il reo era figlio di una persona molto importante a Roma succedeva spesso di incappare non so se vi ricordate anche non so se vi ricordate sicuramente quell'orrore che accadde al Circeo nella villa uno di questi qui era nipote di un cardinale scappò alla fine pare sia morto all'estero qualcuno l'ha rivisto a Roma queste cose a Roma succedono molto spesso il potere sta lì per cui essere figlio di uno potente insomma non pagare non pagare il fio era una cosa abbastanza facile ecco e infatti in galera ci riferivano a destra o a sinistra i morti di fame qui gli altri no ancora adesso se vai in galera è uguale ci sono i morti di fame lo sappiamo lo sappiamo molto bene non perché siamo stati in galera però ci potremmo finire assolutamente sì che ce vu basta saltare un sabato vabbè e quindi ho voluto forse un pezzo così di memoria era un bel esempio di ingiustizia quello lì pensa che sul prossimo schiavone invece c'è un'ingiustizia dall'altra parte cioè su terrorismo di sinistra carino no io è un colpo alla botte perché noi abbiamo avuto tutto in italia anche quello tutto allora quindi prima volevo parlare di anni settanta però tu hai citato schiavone ecco ma schiavone questo schiavone stanno a Osta lui sta da Osta in questo momento proprio ma perché ogni tanto hai voglia di tradirlo perché due palle ecco non ne puoi più eh sì no ogni tanto sempre più spesso mi chiedo se non sia meglio mettere il punto di un proiettile alla sorte di Rocco Schiavone ecco capito io so io posso come con Andor che odiava il suo personaggio ma perché no 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 perché era un personaggio scomodo madonna e Sherlock Holmes era drogato non si capisce la sua sessualità era monomaniacale era pesantissimo il personaggio da raccontare Watson era una meraviglia di Dio Marcello Holmes era terribile e so posso anticipare che nel prossimo libro Dintino scrive le poesie lo so si tocca il fondo spoiler meraviglioso scrive poesie perché deve trovare una donna allora decide che siccome non c'ha un cazzo l'amico dice qual è il tuo hobby vabbè cosa ti piace vabbè vai al cinema leggi libri e dinti tu qualcosa ci devi avere però perché se no scrivo poesie allora lui scrive poesie in abruzzese e vabbè e le leggi e le leggi in questura anche a Rocco Schiavone che forse forse non era il caso però le leggi anche a Rocco sì si chiama il passato è un morto senza cadaveri ah c'è già che dico sì c'è solo quello per adesso e le poesie di e le poesie di dintino il resto muo vediamo ma come in geometria però due punti che ce l'ho muo vediamo comunque ogni tanto senti il bisogno di scappare sempre più spesso mi chiedo se non sia meglio mettere il punto di un proiettile sì sì sempre più spesso sì sì mi diverte scrivere altre storie penso che sia normale ma no assolutamente quante volte vorresti scappare dalla stampa tu ok facciamo c'è un'altra domanda c'è un'altra domanda allora ti chiedi un'altra cosa eh va bene non sai cosa te la faccio io a te eh va bene non sai che vai a fare paravendio perché perché si però obbio i motivi e appunto gli anni settanta no dicevamo tu fai una anche una oltre a raccontare abbastanza bene il ma è un romanzo politico alla fine questo ma pare che qualsiasi gesto che facciamo sia un gesto politico ma è come si diceva negli anni settanta appunto vedi che cazzo anche bere dell'acqua è un gesto politico quale acqua stai bevendo quella del sindaco o quella comprata eh questa no questa non è del sindaco ecco tu fai anche una una adesso ti verso tu parla io te l'ho verso ok fai anche una compilation cioè una compilation fai una un racconto che ti ho appunti del anni settanta le letture le letture di quello che dove essere l'uomo perfetto di sinistra no ci metti anche Deleuze Guattari per esempio il famoso anti-edipo quella cosa illegibile illegibile e tutti noi ci sentivamo obbligati a leggere le città si io non l'ho capito mai si capiva un cazzo neanche neanche il verbo essere si capiva cioè è bu non so se ci ho messo metti il libro delle svolte di Brecht pure sì ecco un'altra autora di coglioni ma metti tante cose curiose ecco appunto racconti beh vabbè poi c'è guarda qua guarda qua Sartre Brecht Marcuse Marcuse i quaderni di Gramsci l'anti-during di Higgins cioè hai capito ti sei sprecato che gioventù triste che gioventù triste però in questo diciamo universo di totale illegibilità illegibilità a parte Gramsci a parte Gramsci poi a un certo punto chissà perché ci figa e questo mi devi dare una risposta la tramontana di Antoine che è vero che è del padre ma perché ci metti la tramontana di Antoine e poi Dorighezzi certo dimmi perché 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 in realtà mentre tu leggevi Marcuse pensavi alle cosce di Dorighezzi sulla copertina di casa Ciò col cavallo e canticchiavi al bar da tramontana la sapevi a memoria cioè vergognandoti tra l'altro o no però non la fischiettavi quindi che vuol dire ti vergognavi di essere pop ma eri pop nonostante tutto eri la cultura popolare è quella che ti frega sempre subito e fregava anche i lettori di Marcuse che ponderavano e ponzavano però poi alla fine per un pizzico di una sottana ho perduto la tramontana la devi la devi fischiettare non puoi farne a meno e questa è proprio la bellezza di quello che poi ci salva cioè di non prendersi sul serio fino a un certo punto che poi Dorighezzi era meglio di Marcuse cioè ma parliamoci chiaro per non parlare di Silviva Artan che è stata l'amore eh dai e tra l'altro Dorighezzi è ancora versione precedente quando comparì insieme a Wes ovviamente dopo è diventata intellettuale ce ne frega niente con Wes anche da sola in casa ciò il ballo della steppa che meraviglia come Silviva Artan che cantava irresistibilmente esatto e tutti ci ricordiamo come era vestita sì allora però poi dovevi tornare a casa a leggere metti il libro delle svolte Brecht e tu Sartre l'esistenzialismo Marcuse poi una botta di vita era la peste di Camus per dire ma voglio fare due risate ma ma leggo sta peste ma un po' di cadaveri di topi morti anche lo straniero peraltro voglio dire una cosa sullo straniero lo straniero è un cavolavoro lo straniero ecco mi dico una cosa non c'entra veramente come se fino adesso non c'entra le droghezze eh lo straniero ha fatto il film l'ha fatto Visconti ha toppato il protagonista non può essere Mastroianni mi spiace non può essere lui Mastroianni no no non è Sergio Reggiani piglia non va bene esatto ma perché Mastroianni a un certo punto faceva tutto esatto era il volto di tutte le cose dei personaggi troppo bello troppo presente non ha bisogno di fare quelle cose che fa lo straniero vabbè chiusa per non so perché è sempre per Dorighezzi è sempre lì torniamo a Dorighezzi Antoine ecco ma appunto questi anni 70 dove noi eravamo ragazzini sì ero piccolino sì anche io no un po' più vecchio di tema vabbè stavamo lì eravamo bambini però io ho una sorella più grande gli amici della sorella ancora più grandi partecipavi di queste cose senza capirle ecco ma questi anni 70 con meno perché alla fine nel ricordo ci stiamo anche scherzando ma in realtà erano pesanti secondo me non erano belli erano pesanti lì nasce gli anni di piombo cioè nasce il terrorismo nasce la violenza la violenza per strada continua Torino Torino non ne parliamo con le fabbriche lasciamo perdere non erano belli non c'è da essere nostalgici secondo me degli anni 70 ecco ma perché li hai rievocati perché lì accadevano perché lì il sociale era in movimento era in movimento e succedevano degli orrori anche in questo movimento si scendeva in piazza si dicevano le cose sembrava apparentemente anni più vivi in realtà erano anni di premorte sostanzialmente e ai ragazzi soprattutto succedevano cose molto gravi per dei motivi politici adesso i ragazzi si ammazzano per non voglio fare il vecchio vecchio brontolone però adesso succedono delle cose che se non altro non hanno nessuno spessore si giocano si giocano la buccia per niente questo mi fa tristezza perché questa è la società che gli abbiamo consegnato noi la nostra generazione almeno almeno lo scontro politico era uno scontro vivifico cioè si andava lì si protestava si facevano cose orrende brutte però vivifiche cioè il movimento femminista il movimento le destre sociali perché c'erano anche le destre sociali non ce le scordiamo le sinistre i comunisti che spesso dicono le stesse cose delle destre sociali e non se ne sono mai accorti solo che uno citava Marcuse l'altro citava Evola ma più o meno poi alla fine si andavano a unire però c'era della vita cioè si protestava si diceva no magari anche esagerando si facevano anche un sacco di minchiate però c'era una vita cioè la nostra generazione era era la generazione del rifiuto del rifiuto del rifiuto di tutto quello che era stato prima e questa generazione di rifiuto ha dovuto imparare a vivere a camminare sulle sue gambe ha subito e ha fatto un sacco di torti ed è lì che nasce secondo me il problema del protagonista proprio nel momento in cui comincia a camminare che gli segano le gambe quindi siamo nel 73 questo è il motivo è stato un sacco di trattamento di trattamento di trattamento di trattamento di trattamento Grazie a tutti